ho avuto un problema e si è interrotta la diretta comunque dicevo il Milan raddoppia sempre con Brian Diaz che oggi ha doppietta quindi Milan 2 e Monza 0 grandissimo gol ancora una volta di Brian Diaz che è la piazza all'angolino dove il portiere del Monza non può arrivare questo è un giocatore piccolo di statura ma grandissimo è il talento esulta in figura anche Zlatan Ibrahimovic che quando tu ora torni di campo che verrà sicuramente di un night il campione dell'Italia siamo nuovi anche se non ho ancora la maglia con lo stemma per quello di prenderla più presto comunque lo stemma è importante che lo troviamo nel cuore è il primo colore italiano ehi Brian fai un'altra volta ti porti volendo a casa oggi è il primo colore è il primo colore e Diaz ora con il suo migliore 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 ha avuto 4 gol nella campagna di 2021 ma è solo il suo quarto l'apparenza della season è già up to 4 on a via un bel paio di gol sono due che hanno dato da Senzi Diaz 43 min mi viene ancora Brian Diaz il passaggio per Oridi che viene anticipato calcio d'angolo per il Milan a minuti di gara sono 42-46 coni nel corso di questo primo tempo calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla bandierina parte il calcio d'angolo ribattuto dalla difesa del Monta si è rimesso laterale sono da stacco per il Milan inutili gara sono 43-15 secondi nel corso del primo tempo ricordiamo il puntato a Milano Milan vince in questo momento il vantaggio i due reti a zero per il Monta la parte del palo al Milan di parte il Monta però regalare rimesso da tre dal Milan che vattura Fernandez il Vincere che è il progetto con il Vincere con il Vincere che è il progetto che si è rimesso interesse per il Monta che è rotto in questo momento per limiti di gara sono 44 in questo primo tempo ora Kiar che va a ribancio lungo il portico di testa il giocatore del Milan tutto il batte ribatti ora ricopre la palla al Monza in avanti attenzione attenzione ancora il Monza però perde palla riparte il Milan Messias Messias provate ad avanzare Messias deve servire Oridi però perde palla e ricopre la palla al Monza il giocatore è ancora il Monza scocca in questo momento il 45esimo è l'arbitro Rahim Diaz rischia al fine di questo primo tempo senza dare nessun minuto di recupero bene finisce questo primo tempo con il risultato di Milan 2 Monza 0 grazie alla meravigliosa doppietta del folletto spagnolo brain dia se ci risentiamo nel secondo tempo sempre forza mila a dopo ciao buah bacio a tutti Grazie.